Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 7 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Segno Fortunato. Coccolati da Venere e dalla Luna. La luna di fuoco ha per voi un sacco di riguardi e lo stesso vale per Venere da poco in ariete, forse perché tutti quanti appartenete allo stesso elemento, perciò le vostre vibrazioni sono in perfetta sintonia. Vi parlerà di viaggi, naturalmente, il vostro argomento preferito, ma non solo, oggi ci sono in ballo gli ideali, in primo luogo pace e giustizia, che nei confronti della gente da frequentare vi rende molto selettivi, l'essenziale è non tradire fedi e convinzioni sostenute finora con tanto accanimento. L'idealista cammina in punta di piedi, il materialista sui talloni, Malcolm de Schatzal, un pensiero che tornerà ricorrente nei vostri paraggi e che potreste utilizzare come spunto per la meditazione della sera. Anche Mercurio dà il segno opposto, a modo suo vi dimostra attenzione, accarezzando dall'esterno le vostre relazioni, con la sua simpatica ironia che vi permette di dire tutto quel che vi passa per la mente senza rischiare di offendere. Oggi l'amore sembra non corrisposto, le coppie potrebbero conoscere una breve crisi. Sembrerà che tutti i progetti, l'amore, il lavoro siano come ostacolati da forze che si sprigionano dal nostro ineriore. C'è confusione in molte cose che andrete a fare, e quello che nasce, nasce dalla confusione. Oggi una canzone potrebbe farvi tornare alla mente una persona per la quale avete tenuto tantissimo. Attimi di tristezza vi assorbiranno. Non lasciate però che l'intera giornata sia condizionata da questo. A partire dal primo pomeriggio potreste avere l'occasione giusta per conoscere persone interessanti e che vi saranno molto utili in futuro sia professionalmente, sia per il lavoro e, perché no, per avviare qualche nuova attività. Ti sentirai allegro e contento. Buoni contatti con le persone della bilancia. Sii più analitico. Non dare tutto per scontato. Favorito il lavoro. Per chi studia oggi è una giornata difficile, concedetevi un giorno di riposo e allontanate lo stress dedicandovi alla lettura di un buon libro distensivo o Cercate di incontrare il vostro partner Potrai intravedere oggi nel volto di un amico un valido sostegno e un valido aiuto, cerca di tenertelo sempre per amico. E una persona estremamente valida Una persona vi deluderà improvvisamente, cercate però di non farne una tragedia e, potendo, di soprassedere La miglior cosa è soprassedere su eventuali intoppi o complicazioni che potrebbero capitarvi oggi Una buona occasione per rivedere qualcuno che non si vede da tempo Senza buona ragione non potete scagliarvi contro una persona che ha sempre avuto molta pazienza con voi Siate più comprensivi. Venere guarda dalla vostra parte e non è escluso che in giornata potreste mettere a segno un discreto colpo Se amate qualcuno provate a pensarlo intensamente, niente esclude che non si faccia vivo di lì a poco I vostri piani non hanno bisogno di segretezza, perché intorno a voi nessuno sarà capace di imitarvi, almeno non per il momento Poiché non dispongono delle capacità adatte e soprattutto dei mezzi e dell'esperienza necessari al caso Si preparano così avanzamenti nel lavoro e vantaggi a livello economico E' certamente importante nella vostra vita sapere di poter contare su determinati sentimenti che non vi abbandoneranno Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura Mercurio è nel segno per voi ostile dei gemelli, ma si limita solo a provocarvi, a rendervi più combattivi del solito, con risultati per lo più positivi Sponsor del calibro di Saturno in acquario al vostro fianco, vi donano la grinta e la volontà di non lasciarvi sopraffare da alcunché Siete alle porte di un periodo che vi porterà lontano e ci sono dei nati del segno che sanno già cosa andranno a fare in tarda primavera o in estate Le imprese che nascono ora, le grandi decisioni sono possibili per oltre un anno, ecco perché l'astrologo vi spinge all'azione In amore questo è un mese di grandi chiarimenti, se una cosa non va bene si chiuderà senza rimpianti In questa giornata sarete sicuramente più attivi, rispetto ai giorni trascorsi a doziare e a non sapere cosa fare Ci sono alcune sorprese che vi attendono e che vi regaleranno un bell'entusiasmo Vedrete che salterà di nuovo fuori la vostra creatività e la vostra immaginazione farà il resto Se siete artisti in crisi, essa passerà per lasciare il posto all'ingegno Simpatica la luna di fuoco e soprattutto promettente sul fronte degli studi e dei viaggi Peccato che Saturno, remandole contro, rallenta e limita i vostri progetti, sempre grandiosi, all'insegna dell'ottimismo e della fiducia Credete nella pace, ma ormai siete rimasti in pochi Sul piano filosofico le vostre teorie sono ineccepibili, ma si scontrano con una realtà di tutt'altra natura Amore ed Eros Felici e contenti come nelle fiabbe, avete trovato il partner ideale Una persona trasparente come voi, allegra, comunicativa e gioiosa Insomma il tipo che ama la vita esattamente come la amate voi Viaggia volentieri e pensa ad un futuro colorato con una casa piena di libri, animali domestici e bimbi urlanti Cari Sagittario, anche se le stelle sono positive, non mancherà un calo di emozioni nella vostra routine, con parecchie tensioni da affrontare In generale vivete parecchio alla giornata, alternando momenti di euforia ad altri di quasi depressione Gli impegni in questa estate non mancheranno, ma concentratevi soprattutto sulle cose che vi piacciono di più Sentimenti altalenanti In questa fase dovete impegnarvi più per una storia seria È il momento di impostare in modo diverso la vostra vostra relazione Grandi successi in vista per la vostra vita Saturno vi offre l'intelligenza per dare corpo ai vostri desideri Specie se festeggiate il compleanno dal 16 al 20 di dicembre, combinando l'ardore sensuale con l'autenticità del sentimento Disponete il vostro anima ad accogliere il caldo a braccio di una passione d'amore e la persona giusta non tarderà ad affacciarsi nella vostra esistenza Se avete un menage di coppia matrimoniale stabile e coltivate questo sogno da tempo, aspettatevi presto il volo di una cicogna, perché i figli sono la benedizione di Dio Lavoro e denaro Difficile applicarsi con la testa quando il cuore è un tumulto di piacevoli sensazioni e deliziose aspettative Invece vi tocca, perché vari imprevesti oggi ribaltano i programmi in agenda e fanno saltare piani e strategie studiate a regola d'arte Come dice il proverbio, l'uomo propone ma Il cielo dispone, e se si tratta di stelle possenti sopra la testa non vi resta che abbassare la cresta e adeguare il passo Tensioni in ufficio, dove aspirate a una maggior libertà d'azione Ora che l'azienda ha ridotto il personale ricade tutto sulle vostre spalle e già cominciate a rimpiangere il weekend, dal quale siete rientrati giusto stamani all'alba Esagerati, per arrivare al prossimo mancano ancora 5 giorni pieni Nei giorni precedenti vi eravate distinti per il vostro modo di agire e siete risultati tra i migliori nel vostro ambiente professionale Ora avrete modo di richiedere una ricompensa Dirà datesi alcune nebbie che vi avevano offuscato un po' il cammino in campo professionale Avete dalla vostra una trascinante venere nel segno amico dell'ariete, se appartenete alla prima decade, che vi dona un'irresistibile volontà di ribaltare il presente Non vi irrigidite però, mossi da ambizioni eccessive con chi ha l'autorità per contrastarvi e sappiate aspettare, ricordando che con la pazienza si acquista la scienza Benessere Un po' nervosi, ma quando si è felici anche queste onde cerebrali fuori controllo non danno tutto quel fastidio che vi procurerebbero in altri momenti con l'indice di felicità a livello inferiore Attenti anche a come vi muovete, distratti come siete andate a sbattere dappertutto e il livido sulla fronte decisamente non è trendy Il livello delle vostre energie è piuttosto alto, siete stimolati a vivere in modo dinamico, molto sportivo Fate sempre attenzione agli eccessi, non soltanto nello sport ma anche quando siete a tavola Per lei, innamorate, stavolta sentite di aver fatto la scelta giusta L'uomo a cui pensate è un tipo divertente, comunicativo, capace di farvi ridere ma anche di sostenervi nei momenti no Per lui, quando la filosofia vi stanca, perché tutto ha un limite, tornate alle letture piacevoli Il romanzo d'avventura che vi fa sognare, trasportandovi in luoghi imperdibili Prima li conoscete leggendo, poi li visiterete di persona con una vacanza avventura E allora grazie a Emilio Salgari, la cui genialità è stata apprezzata troppo tardi Colore delle emozioni, Lilla Barometro dell'umore, soleggiato Pagellina del giorno Sentimenti, 10 Attività, 9 Finanze, 7 Beneessere, 9 Grazie per aver guardato l'idea Spero di vederti presto